e come Bologna Fiere dare un segno concreto di che cosa possa voler dire sostenibilità quando si fanno manifestazioni fieristiche, che di per sé non sono propriamente un grande esempio di sostenibilità. Lo abbiamo fatto come segreteria organizzativa, quindi come SENAF, certificandoci ISO 20-121 a testimonianza del fatto che cerchiamo di essere quanto più possibile sostenibili nel nostro lavoro di tutti i giorni. E lo ha fatto Bologna Fiere intraprendendo un percorso con Enea che cerca di valutare quello che è l'impatto che lasciamo dietro di noi, direi per la cosa più ingombrante e più pesante che concretizziamo che sono gli allestimenti fieristici. E in questo senso le chiedo di dirci due parole sul progetto, su che cosa va a valutare perché poi premeremo l'azienda partecipante ad Ambiente Lavoro 2023 che meglio ha performato per lasciare dietro di sé un'impronta che fosse la più leggera possibile in termini di allestimenti. Certo, buonasera a tutti. Come diceva Toressa Pavarelli, gli stand fieristici portano con sé delle problematiche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. E proprio per questo abbiamo pensato con il contributo importante di Enea di individuare una metodologia per il calcolo della sostenibilità secondo alcuni parametri dalle materie prime ai rifiuti prodotti che devono essere quanti più possibili para zero alle distanze che vengono percorse, quindi dai trasporti e soprattutto all'utilizzo di acqua quindi delle materie prime. Tutto questo ha portato alla creazione di un questionario che è stato inviato ai espositori di Ambiente Lavoro, che è sempre molto attenta a queste tematiche, anzi ringraziamo perché ci permette di accrescere lo studio, perché abbiamo bisogno sempre di più dati per dare sempre più una maggiore valenza a questo studio importante che stiamo portando avanti. E quindi una volta ottenuti i risultati abbiamo individuato l'azienda che ha maggiormente performato dal punto di vista della circolarità. Quattro parole diciamo che è quello che racconta il nostro progetto, che stiamo continuando a portare avanti. Bene, e allora senza ulteriori induci perché è stata una giornata lunga per tutti, per la circolarità nella realizzazione degli spazi espositivi ad Ambiente Lavoro 2023 premiamo l'azienda Tarsos, riceve il premio Petrice Gotti. E veniamo anche al secondo premio che abbiamo deciso di dedicare come segretaria Ambiente Lavoro a quelle aziende che al di là del loro spazio espositivo hanno cercato di fare propri non solo i principi della salute e sicurezza sul lavoro ma di una sensibilità più globalmente intesa. Premiamo a questo proposito per le piccole azioni sostenibili che ciascuno di noi può fare tutti i giorni l'azienda Fraone, ritira Laura Volpe. Allora per la volontà di essere sempre equamente rappresentati maschile e femminile per avere deciso di portare il proprio stand sempre con sé come fanno le tartarughe o le chiocciole quindi senza spostare materiali, senza consumare acqua, senza generare fatturati per le fiere quindi io e lei ingegnere per il secondo anno consecutivo ci siamo giocati il posto di lavoro con questo premio ma vabbè diciamo che stai. Grazie anche per tutte le attività che socialmente portate avanti con mille modi e mille scamontaggi diversi per far passare il messaggio della sicurezza sul lavoro e non solo. Grazie a voi.